21 aprile ancora oroscopo anche nella giornata di oggi segno per segno ariete non prendete troppi impegni vi converrà a riflettere sul da farsi per il toro in questa giornata mercurio entrerà nel vostro segno per i gemelli fate in modo che i vostri cari trascorrano una giornata serena mentre cancro piccole nubi potranno disturbare il vostro cielo leone fatti nuovi e positivi stanno maturando in ambito sentimentale per la vergine date a chi amate il modo di esprimere magari anche le proprie idee non siate sempre egoisti bilancia preparatevi ad approfittare di un'ottima giornata mentre lo scorpione lasciatevi alle spalle i problemi e divertitevi sagittario giornata ricca di possibilità in campo sentimentale quindi positiva capricorno contate sull'appoggio delle stelle la giornata è eccellente acquario vi sentirete in forma pronti a stare in compagnia mentre i pesci troveranno il modo giusto per trascorrere una giornata molto serena e con questo chiudo l'oroscopo del 21 di aprile si ritorna domani buona giornata